Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server con un video particolare. Sì, oggi parliamo di Ghost of Tsushima, un gioco che oltre a farti intrecciare la lingua ci accompagnerà nel 2020. A quanto pare PlayStation, Sony su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro vedrà questo grosso protagonista che è un po'... No, vediamo, perché noi non abbiamo ancora iniziato a vedere il gameplay, dovrebbe essere un lontano parente di Sekiro. Sì, ma abbiamo letto dei commenti, da cui poi è nata la voglia di fare questa reaction insieme a voi, che lo descrivono come uno Zelda Breath of the Wild per PlayStation. A noi sembra un po' una stronzata, però adesso andiamo a vedere questo gameplay e poi faremo le nostre brave considerazioni. Quindi comodi ce lo vediamo insieme. Partiamo fra tre, due, uno... Play! Blood and Gore, Intense Violence, Partial Nudity, va bene, quindi già si parte... Solide cose, insomma, dai. Sucker Punch? Comunque me lo ricorda tanto Sekiro, anche se tutto questo movimento di piante... Allora, io non so se graficamente mi piaccia. Cioè è bello, quello che sto vedendo adesso perlomeno sembra bellino. Noi lo stiamo vedendo da cellulare, quindi è anche un po' falsato da la ristrettezza dello schermo. Siamo in diretta, vi faccio vedere lo schermo, quindi proprio è tutto real time, ragazzi, eh. Vabbè, solita scena con il sole contro luce. Tutte le luci nella mia stanza si sono spingue. Alexa, accendi tutte le luci. Certo. Certo, ma quella puttana di mamma... Scusate, ragazzi. Vabbè, c'è un mappone bello cicciotto. Poi, per adesso... Ghost of Tsushima non è il mio genere. Non lo è. Il tutto sembrava fin troppo cinematico, quando è stato proprio annunciato il gioco. Ora mi trovo davanti a un gameplay e non riesco a capire dove possa esserci il bello, dove sia la particolarità. Però le compenetrazioni delle piante le facciamo passare a tutti, ormai c'è una speranza proprio persa. Anche se a Real Engine 5, su PlayStation 5, almeno dalla tech demo, sembra comportarsi benino con queste cose, ma poi chi lo sa, chi lo sa. C'è una micro compenetrazione anche nella tech demo, eh. Non c'è sfuggita. Vabbè, il cavallo... Però, però, posso dirti una cosa, il cavallo è interessante. Se siete iscritti da poco, quando Nicola dice il cavallo è interessante, che intendi? Spiega. Non esiste un gioco che abbia un cavallo funzionante, al 100%, nessuno, a meno che non te lo castriano. Cioè, questo bisogna vedere se salta oppure no, perché se salta è rotto. Ok, allora... E dalla coda questo già si vede che è rotto. Abbastanza, però, dai, diamo il beneficio del dubbio. Io comunque vedo un mondo molto molto vasto, ma spaventosamente vuoto. Graficamente il gioco è assolutamente nella media, quindi non è qui che sembra brillare. Dal punto di vista del gameplay, è un open world che non fa più gridare al miracolo, le mappe enormi non fanno più gridare al miracolo. Qui ti viene mostrato poco, cioè, perlomeno, quello che percepisco io da videogiocatore è che mi hai fatto vedere davvero poco di quello che sarà poi il reale gameplay. Magari se lo vogliono tenere. È vero? Mi ha dato anche a me questa... sensazione. Ma non alla Red Dead Redemption, che è vuoto e scenografico. Questo mi sembra davvero un sandbox. È bello che tu possa raccogliere le cose al volo dal cavallo, eh. Senza dubbio, perché scendere rompe i coglioni. Questo sta giocando in GDR, ma scendere che giustamente arriva in Gittà, no? La mappa sembra bella e grossa. Bella e grossa, ragazzi, sembra... Bella mappa è... Secondo me è ancora tutto troppo presto. Ha bestemmiato, che ha detto? Che ti vuoi fare? Oh, pre... Ah, no, ok. Sta cercando di fare il giro per... Cagata forest avevo le... Posso dire che se la son giocata male, secondo me, questa presentazione. Mamma mia, mamma mia. Cioè, devi attirare l'attenzione. Eh, cioè, qua è veramente una rottura di cazzo. Cioè, a vederlo da qui, perlomeno, sembra pesantissimo il gioco. Nei commenti, già lo so, non è un gioco per voi, non ci giocate. Non mi dovete rompere il cazzo. Non me lo dovete cagare. Perché io gioco a quello che voglio. E se cominciate così, io mi pongo nella maniera sbagliata nei confronti del gioco. Eh, e poi ci facciamo una run di 500 ore. Devi farti indicare la strada dal vento, quando va. Madonna, quell'albero. Sì, ma mi fai vedere qualcosa che sia utile? Magari gli sviluppatori, i publisher. di Ghost of Tsushima hanno un'idea ben precisa. Cioè, quella di attirare una certa tipologia di fan. Ovviamente, devono farlo. Però, mi chiedo, un gioco si riesce a reggere su una nicchia tanto specifica? La raccolta di piante e oggetti non fa più gridare al miracolo, così come non fa gridare al miracolo la personalizzazione mediante armature con dei benefici specifici. È roba che vediamo praticamente in ogni, ripeto, ogni gioco open world. Niente, fanno vedere dei panorami. Jin de Samurai. Va bene. Jin de Samurai. Ma ci sono diversi... Ah, ci sono diversi personaggi! Quindi quello di prima era quello con cui ci si rompe il cazzo. Ok, ok. Sì, quella era l'esplorazione secondo Nate, credo. E adesso ci si picchia. Ma che è? Sto combattendo uno a uno? Non lo so, però... Ma cos'è? Ma sono tutti a rallenti? Sistema di combattimento, anche qui, non è stato chissà quanto geniale il modo in cui ci è stato mostrato, perché abbiamo visto delle sequenze in rallenti che sembrano essere le uccisioni automatiche alla Splinter Cell, tipo ultimi capitoli di Splinter Cell. Sembrano, eh. Io comincio ad avere dei dubbi, però voglio vedere un combattimento giocato, per favore. Vabbè, c'è l'arco. Ma poi... Ok, vedi che arrivano in treno. Bene. Mi sa che è un sistema alla ombra di Mordor. Barra Batman Arkham. Barra Remember Me. C'è il Perry. Vedo che c'è un Perry. Perché fa un rallenti quando azzecchi il Perry. e lo possono fare anche i nemici. Dosho! Io non capisco quale sia il punto. L'open world, forse? Open world... Io credo che il sistema di combattimento che stiamo vedendo sia molto limitato. Trick e ballà, che voi dirà. Quello che ci mostrano sono la trasposizione delle tecniche di Splinter Cell di Sam Fisher nel periodo del gioco. Non abbiamo i cicalini elettronici magnetici sui muri, ci abbiamo i trick e ballac che puoi lanciare per strada, però sostanzialmente siamo lì. E anche sul piano stealth non vedo nulla di particolarmente interessante. E' importante sottolineare che questi fanno giochi magari il gameplay come presentazione lo potevano organizzare meglio. Perché devi attirare l'attenzione se è il primo gameplay lungo che fai vedere. Tanto a me continua a spegnersi la luce a caso. Penso che Alexia sia letteralmente impazzita. Ah, vedi? Così li hai impauriti perché sei arrivato lì come... come un falco di notte. Vabbè, sta cosa non è male. Anche se credo che sia abbastanza level-based il gioco e che quindi gli avversari man mano che salgono di livello si spaventino di meno. Io devo capire quel L1 più R1 e le cose che... Rampino. Ci tengo a sottolineare anche un'altra cosa. L'arco sarà il mio peggior nemico su PlayStation. Eh sì, su Gamepad è difficilino l'arco. Però dai, io ho giocato Horizon Zero Dawn con un buon sistema di... di approssimazione del bersaglio si riesce a giocare bene, dai. Questo è furbissimo, sta controllando un angolo. Un genio proprio, un genio della difesa. Ah, fargli esplodere cose. Allora, mi piacciono i movimenti. Cioè, le animazioni sono molto, mamma mia. Questa che cos'è? Questa che cos'è? Degli anni 90, questo. Ok, è la missione. Immagino che sia la missione. Customizing Gene. No, non ce ne sono diversi. Sei sempre Gene. Sei sempre Gene, sì. Cioè, ma chi ha detto che è uguale a Zed? Non lo so. Minkia, molto GD rosa sta cosa qui, eh. Come mi piace questo gameplay. L'hanno proprio azzeccato. Sembra molto spippoleggiante. È a metà tra un tutorial cacacazzo e un gameplay sbagliato. Non è un bel lavoro quello che hanno fatto. Cioè, perlomeno su di noi non sta funzionando molto. Con tutto che... tranquilli, lo proveremo, lo prenderemo, ci faremo anche tanti gameplay. Non vediamo l'ora di portare la birra al nostro padre pure qua. Ah, questo è interessantissimo. Questo è... Chi è che non vorrebbe mettersi a... Posso dire una cosa? Forse controcorrente. Ste foto moda hanno rotto il cazzo. Parliamoci chiaramente. Ok. In un gameplay lungo che potrebbe essere il primo gameplay di presentazione wow, vabbè, vabbè, tu ci metteresti la modalità foto. Vuol dire che c'è un cazzo da far vedere. Cioè, fammi vedere una boss fight. Siamo a 15 minuti. Io ancora vedo una boss fight. Japanese voice track. Madonna, questo è fatto per... Ma porca di quella... No, vabbè. Allora, questa è fatta per voi che dite che il gioco è meglio se si gioca in giapponese perché è meglio la voce giapponese. Chi cazzo è che gioca i giochi in giapponese e non conosce il giapponese? Eh, tutti i giochi di Kojima vanno giocati in giapponese sottotitolati in inglese con le texture in italiano. Samurai Cinema. Di tutto ci stanno a parlare a meno che del gioco, per Dio. No, lo fanno alla Kurosawa. Ma cosa cazzo? Vedi, il cinema di Samurai. Ma è? No, hanno fatto... Capito? Puoi giocare il gioco in bianco e nero tipo film di Kurosawa. Guarda le inquadrature tipo film di Kurosawa. Ma perché? Ma chi è che si gioca un gioco così, raga? Ma io credo che ci stiamo inimicando un sacco di persone. Guarda! Inimicando. Guarda! Wadaaaaaa! Momento di Pados. Ah, ah! Cacciato a spada. Cazzo, si inizia. Ah, ragazzi. Per chi magari non conoscesse, Kurosawa è praticamente il Sergio Leone dei Samurai. Però no, in bianco e nero tra l'altro penso sia più difficile giocare. pure con l'effetto pellicola, sai? Sì, la vera, pellicola. Madonna, che cagamento di cazzo che soggio. E quello che mi arriva è un gioco che provo perché devo provarlo. mi fido almeno in parte del publisher. Cerco di capire un attimino se è la realtà quella che vedo oppure oppure è solo fantasia. Ad ogni modo mi interessa tantissimo usare il cavallo su questo gioco. Ma hanno rifatto vedere questo! L'hanno fatto vedere all'inizio! che cazzo di gameplay lungo è? Ancora! Stanno facendo il recap di quanto hanno mostrato finora! E poi... Ah, ok. Però nel futuro. Ma non mi hai fatto vedere un cazzo, però! Ahia! Scusa, eh. Scusate, ragazzi. Devo leggere i commenti. Nei commenti si evince una cosa importantissima intanto che passano immagini di battaglie che ci sono persone giustamente che hanno la necessità di giocare un film un videogioco di samurai molto molto Japan Orient cioè proprio samurai come si faceva Kingdom Gamma avete presente Kingdom Gamma? Samurai Edition quindi abbiamo una guerra in atto abbiamo visto dei combattimenti in tempo reale che però non sembrano avere un gameplay caratteristico specifico probabilmente sarà un gioco bellino di quelli che ti giochi con piacere ti fai un paio d'ore però insomma non ha fatto quell'effetto che ci aspettavamo ci avrebbe fatto non ci ha colpiti qualche anno fa andava di moda il medioevo quindi era 10 di default qui è quest'anno sappiamo è l'anno del Giappone quindi 10 di default beh sembra essere un gioco molto complesso che non può certo essere valutato dopo sole due o tre ore di gioco ma sarà esattamente quello che faremo ma magari è bellissimo da giocare ma hanno sbagliato a pormelo in questa maniera o forse è proprio il loro gioco nel senso è proprio quello che vogliono far passare per attirare una certa categoria di gamer l'ambientazione fa gridare al miracolo probabilmente se sei appassionato di quell'ambientazione sì i fan di Assassin's Creed chiedono un Assassin's Creed ambientato in Giappone da tantissimo tempo e non sono mai stati accontentati del tutto quindi questo Ghost of Tsushima potrebbe essere l'Assassin's Creed che tutti aspettavano insomma sicuramente proveremo il gioco lo faremo insieme per perché è importante provarlo insieme caro Sinergo questo questo c'è da sottolinearlo e spero come al solito che non non si agitino troppo gli animi anche se mi pare che che quella sarà la direzione eh